Un mini saluto da... Mino e Mina. E benvenuto nel nostro canale. Ti starei chiedendo, ma che vogliono questi due? Innanzitutto ti dico che iscrivendoti al canale non perdrai neanche un video. Oh, che culo eh. Non sei ancora convinto, vero? Dai, allora ti raccontiamo qualcos'altro su di noi. Facciamo un video lunedì, uno il mercoledì e uno il venerdì. E tutti e tre alle 18.30. E ovviamente in full HD. I nostri video variano dai gameplay ai vlog passando per le challenge. Qua il reato è non divertirsi. Ma c'è di più. Hai un canale YouTube e non riesci ad avere visibilità nonostante ti impegni molto per il tuo canale? Sei capitato nel posto giusto. Ogni fine mese sponsorizzeremo i canali più attivi, ovvero coloro che commentano e mettono mi piace ai nuovi video che escono ogni settimana. E se volete anche a quelli vecchi. In media sponsorizzeremo 5 canali. Poi, dipende da voi, in ogni nostra sponsorizzazione non ci limiteremo a dire il nome del canale. Ma faremo una recensione a 360 gradi dando anche consigli allo YouTuber. È da troppo tempo che nella community italiana molti canali piccoli non hanno spazio per emergere. E anche se con video di qualità vengono ignorati. Noi, per quanto possiamo nel nostro piccolo, cercheremo di aiutare chi ci segue per creare una community migliore. Detto questo, speriamo che il canale vi piaccia e buon divertimento!